Ho realizzato una serie di quiz per la formazione dei catechisti cattolici. Qui avete 40 quiz su spiritismo e magia. Trovate la versione scaricabile in Word sul mio sito www.ilmiocorsodireligione.it Che cos'è lo spiritismo? Il termine spiritismo viene genericamente usato come sinonimo di prassi atta a comunicare con le anime dei defunti. L'usanza di evocare le anime dei defunti è tipica di un movimento filosofico religioso conosciuto come spiritismo. Quali sono i principali motivi per cui gli spiritisti cercano di comunicare con gli spiriti? I motivi sono diversi. I principali sono per comunicare con una persona defunta, per avere la certezza dell'esistenza dell'aldilà, per ricevere degli insegnamenti, per conoscere il futuro o per conoscere fatti nascosti accaduti nel passato. Quale libro viene considerato il testo base dello spiritismo occidentale? La parola spiritismo compare per la prima volta nel volume di Allan Kardec, pubblicato a Parigi nel 1857, con il titolo Il libro degli spiriti contenente i principi della dottrina spiritica sull'immortalità dell'anima, la natura degli spiriti e i loro rapporti con gli uomini, le leggi morali, la vita presente, la vita futura e l'avvenire dell'umanità, secondo l'insegnamento dato dagli spiriti superiori per mezzo di diversi medium. Il titolo di questo testo viene spesso abbreviato in Il libro degli spiriti. Secondo gli spiritisti esistono angeli e demoni? No, non esistono angeli e demoni, ma solo spiriti di diverse categorie. Secondo gli spiritisti, nell'aldilà, gli spiriti più arretrati nel processo di purificazione sarebbero quelli che la gente comunemente chiama demoni, Mentre quelli che hanno completato il processo di purificazione e quindi non più soggetti al ciclo delle reincarnazioni, sarebbero quelli che la gente comune chiama angeli. Quelli che noi chiamiamo angeli sono spiriti giunti alla beatitudine attraverso molteplici reincarnazioni. I demoni, invece, non sarebbero che spiriti al più basso grado di perfezione, e per questo vengono chiamati spiriti imperfetti. Gli spiriti non possono retrocedere al livello spirituale delle precedenti reincarnazioni, né reincarnarsi nel corpo di un animale. Chi è Gesù, secondo gli spiritisti? Gesù, la Madonna e i Santi vengono considerati spiriti superiori, ma non viene assolutamente riconosciuto loro il ruolo e la figura che invece attribuisce loro la cristianità. Gesù Cristo non viene riconosciuto come Dio che si è fatto uomo, ma ridotto a spirito modello, cioè spirito giunto a perfezione. Chi è Satana, secondo gli spiritisti? Esistono paradiso, purgatorio e inferno secondo gli spiritisti? Ci sarebbe, secondo gli spiritisti, solo il paradiso, e molto differente da come viene concepito dalla fede cristiana. Non c'è né inferno né purgatorio, non esiste la possibilità della perdizione eterna, come invece dicono i cristiani. Per Allan Kardec, tutti prima o poi giungono alla salvezza, è solo questione di tempo. Gli spiritisti credono alla preesistenza dell'anima? Sì, secondo gli spiritisti, l'anima prima di unirsi al corpo era uno spirito, quindi essi credono che l'anima umana esista prima dell'unione con il corpo. Gli spiritisti credono nella reincarnazione? Sì, secondo loro gli spiriti si possono incarnare diverse volte, questa è la dottrina della reincarnazione. L'incarnazione di uno spirito può avvenire come espiazione, prova, omissione. La dottrina di Allan Kardec, che è quella che più si è affermata nel mondo dello spiritismo, si distingue da quella di origine anglosassone, la quale non è reincarnazionista. Secondo gli spiritisti, uno spirito può reincarnarsi su un altro pianeta? La reincarnazione, dicono gli spiritisti, non sempre ha luogo sulla Terra, a volte può avvenire anche su altri pianeti. Secondo gli spiriti, fra tutti i globi che compongono il nostro sistema planetario, la Terra sarebbe uno di quelli i cui abitanti sono meno avanti, così nel morale che nel fisico. Marte, gli sarebbe ancora inferiore, e Giove, molto al di sopra, per tutti i riguardi. Il Sole non sarebbe un mondo abitato da esseri corporei, ma un luogo di convegni di spiriti elevati. Parecchi spiriti di persone vissute sulla Terra hanno detto di essersi reincarnati in Giove. Come l'uomo può salvarsi secondo gli spiritisti? L'uomo si salva per il suo sforzo, e non per l'intervento di Gesù Cristo. La dottrina dello spiritismo di Allan Kardec è palesemente autoredentiva, propone l'autosalvezza, per cui l'uomo non ha bisogno di Gesù Cristo, giacché in una o più vite ascende alla perfezione con i propri sforzi. L'uomo si salverebbe infatti solo attraverso il suo sforzo, e non appunto per l'intervento di Gesù Cristo. Della sua salvezza dovrà dir grazie solo a se stesso e a nessun altro. Solo l'uomo salva l'uomo. Quali sono i principali punti divergenti tra la dottrina spiritista e la dottrina cattolica? I principali punti divergenti tra la dottrina spiritista e quella cattolica sono i seguenti. Secondo gli spiritisti non esistono angeli e demoni, ma solo spiriti di diverse categorie. Gesù e la Madonna ai Santi sono solo spiriti superiori. Satana è la personificazione del male sotto forma allegorica. Non esiste un inferno eterno. L'anima, dicono gli spiritisti, prima di unirsi al corpo era uno spirito, dottrina della preesistenza dell'anima. Gli spiriti si possono incarnare diverse volte, dottrina della reincarnazione. L'uomo si salva per il suo sforzo e non per l'intervento di Gesù Cristo. Che cos'è il channeling? Un evento channeling è un incontro dove i partecipanti si trovano di fronte alla possibilità di comunicare, ascoltando e ricevendo energia di guarigione, da guide di luce e amore, spiriti sacri, angeli, arcangeli, esseri di luce disincarnati, i quali portano a noi argomenti a fini evolutivi per l'essere umano. In sintesi, il channeling è una forma moderna di spiritismo. Questa pratica, diffusa negli ambienti New Age ed esplosa nella sua forma attuale a partire dai primi anni Settanta, può essere considerata la versione contemporanea del classico spiritismo ottocentesco. Il termine inglese derivato da channel, canale, è traducibile alla lettera come canalizzazione. In alcuni casi il channeler porta avanti il proprio legame con un particolare spirito per anni, fondandovi attorno una vera e propria religione. E' possibile tramite una seduta spiritica comunicare con un defunto? No. Come scrive padre Gabriele Amort, esorcista cattolico, Nella morte del corpo, l'anima perde assolutamente tutte le facoltà corporee. I demoni possono imitare benissimo la voce di persone defunte, dire cose precise del loro passato, o anche prendere il loro aspetto. Più volte, scrive ancora padre Gabriele Amort, esorcista cattolico, Più volte ho avuto casi di genitori che mi hanno accompagnato figli, anche giovanissimi, che dopo una o più sedute spiritiche fatte per gioco, non riuscivano più a studiare, a riposare, a mangiare, avevano incubi o cose simili. Poteva trattarsi di turbe psichiche, ma poteva trattarsi anche di mali malefici, che poi si evidenziavano con l'esorcismo. Chi può rispondere durante una seduta spiritica? Secondo gli esorcisti cattolici, per gravi motivi, Dio può permettere ad una persona morta di comparire a noi vivi, ma non in una seduta spiritica. Per gli esorcisti cattolici, in rarissimi casi, a una seduta spiritica può manifestarsi qualcuno, ma non è un defunto, ma un demone che fa finta di essere un parente defunto. Ecco perché una seduta spiritica può tramutarsi nell'invocazione di un demone e provocare disturbi di possessione nei suoi partecipanti. Esistono spiriti buoni al di fuori degli angeli Per gli esorcisti cattolici, non esistono spiriti buoni al di fuori degli angeli, né esistono spiriti cattivi al di fuori dei demoni. Esistono anime vaganti? Scrive il demonologo cattolico padre Moreno Fiori. La credenza relativa all'esistenza di spiriti vaganti, in difficoltà perché non hanno ancora ricevuto una destinazione definitiva e pertanto non trovando pace dopo la morte vanno alla ricerca di una compagnia umana a volte con scopi positivi al fine di offrire un sincero aiuto alla persona che le ospita altre volte con scopi negativi e devastanti deve ritenersi alla luce dell'insegnamento del magistero vana e superstiziosa. Infatti è opportuno ricordare in proposito la posizione del magistero della Chiesa Cattolica Ai concili di Leone e di Firenze si stabilì che le anime subito, ovvero immediatamente dopo la morte vanno in paradiso o in purgatorio o all'inferno. Le anime dei defunti possono fare il purgatorio nelle persone viventi? Scrive ancora il demonologo cattolico padre Moreno Fiori Un'altra ipotesi da ritenere inverosimile è quella per la quale le anime purganti dietro permesso divino possano fare il purgatorio in anime viventi tale opinione sostenuta da alcuni è infatti patentemente contraddittoria i fautori di questa ipotesi parlando di anime viventi sembrano insinuare l'idea che esistano anime morte il che è assurdo ma a prescindere da questo essi suppongono la possibilità che un'anima purgante possa vivere il suo stato di purificazione in un altro essere umano ora questa congettura è inammissibile e ciò per due motivi il primo motivo consiste nell'impossibilità da parte di due anime di convivere una nell'altra il secondo motivo è che un'anima separata non può abitare un corpo informato da un'altra anima il demonio può servirsi di anime dannate per molestare i vivi? scrive ancora il demonologo cattolico padre Moreno Fiori un'altra ipotesi assai discutibile anche questa sostenuta da alcuni riguarda la possibilità che il demonio per molestare persone viventi possa anche servirsi di anime dannate specialmente quelle già possedute in vita secondo questi studiosi infatti nulla vieta che Dio possa concedere al diavolo di usare i reprobi ora scrive padre Moreno Fiori le anime dei reprobi non escono dall'inferno se non per concessione divina per ammonire o per provare gli eletti questa uscita delle anime dei dannati dal carcere tenebroso può realizzarsi mediante delle apparizioni l'apparizione delle anime dei dannati è un fatto straordinario che richiede uno speciale miracoloso intervento di Dio non avendo dette anime al contrario degli spiriti angelici sia buoni che cattivi il potere di materializzarsi per questo motivo diversi teologi sono dell'avviso che le apparizioni delle anime dei reprobi siano da attribuire ai demoni i quali ne assumerebbero le fattezze la voce e persino i nomi che avevano in vita i defunti conoscono direttamente ciò che avviene qua giù scrive ancora il demonologo cattolico padre Moreno Fiori le anime dei defunti considerata la loro condizione di natura non possono conoscere direttamente ciò che avviene nel mondo dei viventi le anime separate infatti sono segregate dal consorzio dei viventi e quindi ignorano le vicende di qua giù tuttavia è possibile che esse ne abbiano una conoscenza indiretta sia per mezzo delle anime che giungono ad esse da questo mondo cioè chi more sia per mezzo degli angeli o dei demoni oppure per una rivelazione dello spirito di Dio è però da escludere a meno che Dio non lo disponga che tale conoscenza possa vertere sui segreti pensieri del cuore umano e gli avvenimenti futuri liberi Sant'Agostino scrive bisogna dunque concludere che i morti non sanno quel che si fa qui nel momento che avviene in seguito però vengono a saperlo da quelli che passano dal nostro mondo a loro ma non tutto solo quello che è permesso loro di raccontare e del resto aggiunge Sant'Agostino essi possono ricordare solo quanto è opportuno che sappiano gli spiriti a cui lo raccontano anche dagli angeli che assistono alle cose di questo mondo i morti possono sapere qualcosa e infine Sant'Agostino scrive ancora gli spiriti dei morti possono sapere per rivelazione dello Spirito Santo le cose che avvengono San Gregorio Magno è dell'opinione che le anime dei beati in virtù della loro adesione perfettissima alla giustizia divina possano invece conoscere tutti gli avvenimenti attuali di questo mondo anche una seduta spiritica fatta per gioco o per curiosità può essere pericolosa scrive padre Gabriele Amort esorcista cattolico più volte ho avuto casi di genitori che mi hanno accompagnato figli anche giovanissimi che dopo una o più sedute spiritiche fatte per gioco non riuscivano più a studiare a riposare a mangiare avevano incubi o cose simili quindi la risposta è sì che cos'è la scrittura medianica la scrittura medianica o scrittura automatica è una forma di spiritismo essa viene fatta sia in gruppo che da soli nel secondo caso il medium avverte al braccio una sorta di scossa e la mano comincia a scrivere da sola indipendentemente dalla volontà parole e frasi che il medium non conosce e con una calligrafia non sua esistono alcune varianti di questa tecnica quindi scrittura medianica vuol dire un modo di fare una seduta spiritica il demone usa la mano della persona per scrivere esistono dicono gli esorcisti cattolici alcune varianti di questa tecnica che sono la pittura medianica e la musica medianica in entrambi i casi le capacità espressive sono avulse dal reale contesto cognitivo della persona quali sono i principali pericoli dello spiritismo i principali problemi fisici derivanti dall'aver partecipato a una sudaspiritica sono scrivono gli esorcisti cattolici forti dolori di stomaco dolori alla fronte e ossa vomito crisi epilettiche formigolia alle gambe attacchi improvvisi di calore o di freddo aumentando il senso di ansia depressioni tic nervosi costanti o l'impossibilità di prendere il cibo ma ce ne sono ancora molti di più incapacità di dormire la notte o di giorno incapacità di studiare o lavorare tendenza ad essere agitato ad avere incubi avere paura del buio avere la sensazione di essere afferrato per le braccia o la sensazione di qualcuno seduto sul nostro corpo si sentono anche schiaffi invisibili e morsi nonché colpi al corpo fenomeni come l'auto esclusione dal contesto sociale quotidiano stati di dipendenza come quelle di alcol o droghe perdita della razionalità e la libertà la dissociazione da una propria personalità al punto di sentire che qualcuno è entrato al posto della nostra persona voci che si sovrappongono sulla preghiera e bestemmiano e portano al suicidio per quanto riguarda i danni ai luoghi si potrebbe dire che sono indicati da fenomeni quali il movimento di oggetti senza alcuna causa ragionevole campanelli o strumenti musicali che vengono improvvisamente sentiti menzione deve essere fatta anche di rumori forti sul tetto le pareti o il pavimento grida e voci nell'aria il rumore dei passi visioni scure o presenze mostruose dai risultati degli studi di psicologia e psichiatria su soggetti che hanno fatto spiritismo si è riscontrato che tale pratica ha sempre provocato conseguenze negative sulla salute psichica sia dei medium che dei semplici partecipanti nel 1855 un quarto dei 200 malati di mente dell'ospedale di Zurigo erano spiritisti e così due quinti dell'ospedale dell'ospizio di Gand è possibile che l'anima di un defunto appaia ai vivi secondo i teologi cattolici a volte Dio concede alle anime dei defunti di apparire ai vivi un contatto diretto cioè visibile o uditivo è possibile sì dicono i teologi cattolici ma senza nessuna evocazione solo per libera iniziativa di Dio per finalità serie come portare un messaggio consigliare un rimedio informare su qualcosa che è accaduto o prevenire un pericolo confortare in un momento di particolare sofferenza chiedere suffragi o ringraziare per i suffragi ma i mezzi che può usare Dio per concedere un contatto diretto con un defunto non sono mai quelli delle sedute spiritiche ne troviamo esempi nella Bibbia e nelle vite dei santi le apparizioni dei defunti possono essere immediate dall'intervento degli angeli sia buoni che cattivi l'angelo infatti è in grado di riprodurre le sembianze materiali di una persona sia viva che morta e può parlare ed agire in un corpo così formato come lo fecero o l'avrebbero fatto le persone così rappresentate le anime dei defunti conoscono il futuro secondo gli esorcisti cattolici solo Dio conosce il futuro contingente cosa dice la Bibbia sullo spiritismo secondo secondo la Bibbia esiste un unico Dio onnipotente il satanismo e la superstizione sono contrari al primo comandamento non avrai Dio fuori di me esistono varie forme di superstizione la magia gli oroscopi l'astrologia lo spiritismo il satanismo le vani osservanze dei segni di fortuna cosa pensa la chiesa cattolica dello spiritismo secondo la chiesa cattolica lo spiritismo è una pratica proibita da Dio e fonte di grave peccato il perché è semplice Dio è padre e cerca di proteggerci dagli inutili pericoli dicendoci con le sacre scritture cosa possiamo o non possiamo fare evocare gli spiriti o le anime dei morti è un grande rischio perché ci espone a influssi e disturbi di tipo malefico anche gli apostoli mantengono questa proibizione nel nuovo testamento in quanto rifiutano tutte le arti magiche ai numeri 2116 e 2117 del catechismo della chiesa cattolica troviamo scritto tutte le forme di divinazione sono da respingere ricorso a satana o ai demoni evocazione dei morti o altre pratiche che a torto si ritiene che svelino l'avvenire la consultazione degli oroscopi l'astrologia la chiromanzia l'interpretazione dei presagi e delle sorti i fenomeni di veggenza il ricorso ai medium occultano una volontà di dominio sul tempo sulla storia e infine sugli uomini e insieme un desiderio di rendersi propizie le potenze nascoste sono in contraddizione con l'onore e il rispetto congiunto a timore amante che dobbiamo a dio solo lo spiritismo spesso implica pratiche divinatorie o magiche pure adesso pure da esso la chiesa mette in guardia i fedeli che cos'è la divinazione è il presumere di poter comunicare in vari modi con forze occulte per scoprire cose nascoste soprattutto il futuro quali sono le principali forme di divinazione lo spiritismo a scopo divinatorio cioè l'evocazione dei morti e degli spiriti o per interrogarli su eventi futuri con la convinzione che essi li conoscano oppure per chiedere consiglio o per porre domande di vario genere l'astrologia che è una forma di divinazione quando in base alla posizione delle stelle e dei pianeti si pretende di predire il futuro di una persona o eventi futuri del mondo ma esiste anche un'astrologia non divinatoria la cartomanzia che ritiene di poter conoscere cose occulte dall'uso delle carte dette tarocchi la chiromanzia che pretende di interpretare e predire lo sviluppo e la storia dell'uomo in base alle linee del palmo della mano cosa dice la bibbia sulla divinazione levitico 20 27 se uomo o donna in mezzo a voi eserciteranno la negromanzia o la divinazione dovranno essere messi a morte levitico 19 31 non vi rivolgerete ai negromanti né agli indovini non li consultate io sono il signore vostro dio levitico capitolo 20 versetti 6 e 7 se un uomo si rivolge ai negromanti e agli indovini per darsi alle superstizioni dietro a loro io volgerò la faccia contro quella persona perché io sono il signore vostro dio cosa dice la chiesa cattolica sulla divinazione al numero 2115 del catechismo della chiesa cattolica troviamo scritto Dio può rivelare l'avvenire ai suoi profeti o ad altri santi tuttavia il giusto atteggiamento cristiano consiste nell'abbandonarsi con fiducia nelle mani della provvidenza per ciò che concerne il futuro e a rifuggire da ogni curiosità malsana a questo riguardo l'imprevidenza può costituire una mancanza di responsabilità cos'è la magia secondo gli esorcisti cattolici scrive padre Gabriele Amort esorcista cattolico la magia è la pretesa di acquistare potere e dominio sulle potenze occulte benefiche o malefiche per usarle al fine di dirigere a proprio piacimento il corso degli eventi influendo sugli altri a proprio vantaggio nella magia non si tratta più di predire il futuro qui l'uomo stesso intende produrre gli effetti straordinari utilizzando forze nascoste quali poteri hanno i maghi secondo gli esorcisti cattolici scrive padre francesco bamonte esorcista cattolico la maggioranza dei maghi e dei cartomanti sono solo degli imbroglioni ciarlatani ma tu potresti incappare anche in quella percentuale di maghi costituita da personaggi collegati con il mondo dell'occultismo dello spiritismo e del satanismo in quel caso il rischio che correresti sarebbe ben più grave non per nulla la chiesa talvolta deve mettere in atto l'esorcismo proprio perché si constatano evidenti segni di presenze e azioni straordinarie del demonio in persone che hanno contattato certi maghi i quali li hanno coinvolti in riti o pratiche che poi hanno provocato fenomeni quali l'infestazione l'ossessione o la possessione diabolica secondo invece padre Gabriele Amort altro esorcista cattolico la magia è invocare l'azione di satana è un ricorso alle forze demoniache per influenzare il corso degli eventi e per influire sugli altri a proprio vantaggio con la magia si può fare del bene secondo padre Gabriele Amort esorcista cattolico la magia è solo il ricorso a satana e quest'ultimo non può fare del bene cos'è un maleficio secondo gli esorcisti cattolici il maleficio è nuocere ad altri attraverso l'intervento del demonio può essere attuato in tanti modi diversi legatura malocchio maledizione eccetera ma diciamo subito che il modo più usato è quello della fattura scrive padre Gabriele Amort la fattura è la causa più frequente che noi riscontriamo in coloro che sono colpiti dalla possessione diabolica si può essere cristiani e andare dal mago scrive padre Francesco Bamonte esorcista cattolico quanti cristiani fanno un misto di sacro e subestizioso senza accorgersi dell'assoluta antitesi tra le due cose portando per esempio catenine con immagini o simboli della fede cristiana insieme a cornetti e talismani di vario genere il più delle volte ricevute dai maghi quando in un cristiano scrive padre Francesco Bamonte la fede in Cristo si affievolisce la subestizione può prendere piede e rafforzarsi quanti cristiani hanno più fede negli oroscopi nello spiritismo nella cartomanzia o nella magia che in Cristo ci sono persone che dicono di credere in Gesù e poi acquistano riviste di magia consultano i maghi fanno sedute spiritiche leggono la pagina degli oroscopi o portano amuleti addosso mettendo buona parte della loro fiducia in queste cose che si proponga il bene o il male che pretenda di servirsi di forze occulte benefiche o di spiriti o forze occulte malvagie la magia conclude padre Francesco BAMONTE è sempre in antitesi assoluta con la fede cristiana cosa dice la Bibbia sulla magia è nota l'estrema durezza dell'antico testamento contro chi pratica la magia il nuovo testamento si situa sulla stessa linea la magia nella visione biblica rappresenta un atto di apostasia dal Signore e un atto di ribellione nei confronti di Dio e della sua parola libro dell'Esodo 22 17 non lascerai vivere colei che pratica la magia levitico 20 27 se uomo o donna in mezzo a voi eserciteranno la negromanzia o la divinazione dovranno essere messi a morte levitico 19 31 non vi rivolgerete ai negromanti né agli indovini non li consultate io sono il Signore Dio vostro cosa dice la Chiesa Cattolica sulla magia la magia è un rifiuto del vero e unico Dio esiste un unico Dio onnipotente il satanismo e la superstizione sono contrari al primo comandamento non avrai Dio fuori di me esistono varie forme di superstizione la magia gli oroscopi l'astrologia lo spiritismo il satanismo le vani osservanze dei segni di fortuna l'idolatria è dare a una creatura onori che spettano solo a Dio la forma più grave di idolatria oggi è il satanismo la magia opera in maniera nettamente diversa da come opera a Dio il mago ricorre a imprecisate forze occulte o forze superiori che gli ritiene poter comandare e porre al proprio servizio per il bene o per il male in pratica cerca di acquistare dei poteri che oltrepassino le sue sole forze e lo rendano in qualche modo padrone del proprio destino è l'uomo che vuole essere come Dio al posto di Dio davanti a questa tentazione contrasta l'atteggiamento dell'uomo religioso il quale invece si abbandona alla provvidenza di Dio cosa dice la Chiesa Cattolica dell'oroscopo e dell'astrologia al numero 2116 del Cadechismo della Chiesa Cattolica troviamo scritto tutte le forme di divinazione sono da respingere ricorso a Satana o ai demoni evocazione dei morti o altre pratiche che a torto si ritiene che svelino l'avvenire la consultazione degli oroscopi l'astrologia la chiromanzia l'interpretazione dei presagi e delle sorti i fenomeni di veggenza il ricorso ai medium manifestano una volontà di dominio sul tempo sulla storia e infine sugli uomini e insieme un desiderio di rendersi propizie le potenze nascoste sono in contraddizione con l'onore e il rispetto congiunto a timore amante che dobbiamo a Dio solo si può essere cristiani e superstiziosi scrive padre francesco bamonte esorcista cattolico la superstizione è un peccato contro il primo comandamento la fede cristiana e la superstizione sono in aperta contraddizione eppure eppure non pochi cristiani hanno paura di un gatto nero che attraversa la strada olio versato hanno paura dei numeri tredici o diciassette e che indossano amuleti o talismani per garantire buona fortuna o prevenire cattiva fortuna ci sono anche molti cristiani che hanno un ferro di cavallo sulla loro porta di casa non è raro vedere i cattolici fare gesti con le mani come corna o che incrociano le loro dita in determinati momenti è anche grave continua padre francesco bamonte soprattutto se uno è cristiano credere negli oroscopi consultare maghi leggere la mano o praticare lo spiritismo nell'evangelizzazione nella predicazione durante la messa e nella catechesi è necessario annunciare che il cristiano si fida di Cristo con tutto il cuore lui solo lo libera lui solo lo salva dalle forze del male che lo minacciano la superstizione al contrario non solo non libera e non protegge una persona dalle forze del male ma è un modo che lo schiavizza per sempre continua padre francesco bamonte con il termine superstizione intendo riferirmi come fa la bibbia alla magia alla divinazione al sortilegio al maleficio allo spiritismo all'astrologia le pratiche superstiziose allontanano l'uomo da Dio e dalla verità per sprofondarlo sempre più nella menzogna e nelle tenebre Dio sia nell'antico testamento che nel nuovo testamento parla frequentemente di tali pratiche per metterci in guardia da esse la superstizione infatti offusca la fede altera l'autentico rapporto con lui sostituendolo con forme diverse che non conducono l'uomo all'incontro con il suo creatore la magia è superstizione idolatria perché è tutta una ricerca al di fuori di Dio e delle sue leggi si cercano altre vie altre leggi altre divinità che vengano in nostro aiuto